L'idea è nata durante un pranzo della confraternita della Gorgonzola, dove c'erano circa 250 persone presenti, di una trentina di confraternite, e allora tornando a casa mi è venuta questa idea. Perché non racchiudere tutte queste confraternite in una pubblicazione descrivendo un po' i loro usi e costumi e mettendo una ricetta per ciascuna. Dopodiché la casa editrice, la Nomos Edizioni, è stata entusiasta del progetto e siamo partiti. Dopo circa un anno ecco il libro pronto. Edoardo Toia, confratello del Magistero dei Bruscitti, spiega così come è nato il libro Qui starete benissimo, che vuole davvero prendere tutti per la gola. Una curiosità? Per esempio la confraternita del Tapulone di Borgomanero, il Tapulone è una carne di asino, uno spezzatino di asino, e si dice che nel Medioevo un gruppo di pellegrini che stavano tornando da un pellegrinaggio, a questi pellegrini si è azzoppato l'asino, proprio nelle terre di Borgomanero. Non avevano nulla da mangiare, hanno cucinato questo asino, il risultato è stato eccezionale, e si sono stabiliti a Borgomanero e da lì la ricetta del Tapulone è stata quella tipica di quella città. Quali sono i primi riscontri? Al momento i primi riscontri sono stati molto positivi, il libro ha catturato molto interesse, sia perché non è un libro di ricette, ma è anche un libro di ricette, perché è comunque un libro di storia, di cultura, di tradizione, ma che tutti possono avere in casa, perché tutti possono cucinare una ricetta tipica di una confraternita italiana, e sono circa una cinquantina in tutto il libro. Grazie a tutti.